Davide Tech Camp è arrivato alla fine, qual è l'esperienza che ti è piaciuta di più? Allora, io ho frequentato sia il corso di programmazione che il corso di robotica, ho frequentato entrambe le settimane e devo dire che mi è piaciuto un filo di più il corso di programmazione per via del fatto che di programmazione non sapevo praticamente niente, mentre di robotica qualcosina già comunque la sapevo, ma solo per questo motivo, perché anche il corso di robotica è stato comunque strutturato molto bene e sicuramente la cosa che mi porto a casa è la capacità di risolvere, perlomeno credo adesso di aver acquisito la capacità di risolvere problemi logici oppure problemi meccanici anche di livello abbastanza evoluto e questo soprattutto grazie ai corsi che abbiamo frequentato ma anche grazie alla disponibilità degli istruttori e dei ragazzi di rispondere alle domande che tu gli puoi porre e infatti credo che sia raro avere la possibilità di frequentarsi, di confrontarsi con dei docenti così competenti, dei ragazzi comunque così in gamba e questo è sicuramente molto importante perché dà la possibilità di approfondire anche al di là del normale programma che si effettuerebbe durante le lezioni. Grazie a tutti! Grazie a tutti!